Mentre Lidei riceve dalla rimessa, una grande palla di Rodriguez, marcato da PC di Leni Bene per Lidei, che va a schiacciare nel cuore della De Longhi. 38 a 35, ancora per Russell, che poi cerca lo scarico, Panter ci mette una mano, poi con un po' di fortuna recupera il pallone, manda Lidei, capo aperto, a prendersi il poster di Mekowulu. E via col pick and roll, arriva Lidei, ecco la palla, è lunetta, ricezione, diretto caratteristico per la parità, che parte, grande cambio sotto le gambe, poi Lidei, chiude la saracinesca ma Panter scappa via. E poi la palla di Cicciarini per Lidei è magica, Lidei si complica la vita, con una finta che forse non serviva, ma come fa a sbagliare, 9 su 9 dal campo. Grazie a tutti!